buongiorno coccodrilli eccoci qua con l'occhio pecoro proprio super pecorizzato che bello che belle immagini è lui o non è lui certo che è lui lo schiso guarda come viene giù come schisa bene perpendicolare alla tazzina tazzinosa tazzinata oh no oh no le chiavi del le chiavi del deltaplano dove le hai messe le chiavi del deltaplano le chiavi del deltaplano ma ce l'hai tu le chiavi le chiavi del deltaplano ma che cazzo dice ce l'è o no ma vaffan cucamina io volevo andare a giro sul deltaplano niente buongiorno fa fa ma vaffanculo fa oh no ma vaffanculo quanto è dove? vaffanculo mario mio carissimo amico speciale numero uno no top mi sei per te grazie grazie si 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 numero uno in anteprima eh in anteprima no andreoni in grande ma sta pieno ragazzi sta pieno che figa si Sì! 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 La metti? Dormivo? La metti? La metti la maglia? Sì! Beh, grande. Numero uno, Andreone. Grazie, Fede! Come gli fai la Federico? Come? 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 Ti piace la testa di Fede? Fede, Fede? Come? Come? chi c'è topazia contorno di liquirizia guarda che amico ti porta a Roma a prendere l'aereo che amico che amico miglior amico la giacchetta però mi fa troppo grossa ti ci voglio solo il cargo per andare a Dubai adesso ti hanno fatto l'aereo per te seguitele e scrivete i topazia ho cambiato il nome topazia topaziona scrivete ancora topazia non è no dai mi ho rotto il cazzo mi aiutò vattene a Dubai oh topazia vattene a Dubai vattene vattene a Dubai oh topazia vattene a Dubai vattene vattene a Dubai oh topazia vattene a Dubai vattene Vattene, vattene a Dubai, oh tua pazia, vattene a Dubai, vattene, vattene, vattene a Dubai, oh tua pazia, vattene a Dubai, via, casa, casa, a me un bacino, ciao, si col cazzo che te il do, levete, ne è vero, ecco, lavoriamo, dai levai a Sancio, ciao, circa un anno e mezzo, due ritorno da Sancio. Pizza mondiale, ragazzi, drilli, tassativo. Antonello che canta, com'è, vai, canta. Antonello Venditti, incredibile. Si incazza Venditti, su serio? Si incazza Venditti? Vieni dopo pranzo. Muori insieme a me, fermati. Ma forse, ma io. Muori insieme a me. Oh, ma che è questa nebbia? No, mezza la spada, cura e frime. Almente che ha fatto tutto. Com'è? Almeno? No, o no? Sono sempliciotto a te chiamato. Ma. Lui è come il popolo. Totò, chi è? Si. Eh? Però tu sarai e resterai per sempre. Oh, bello sto cappello. Tu diventerai. Bello sto cappello. Comando di uno, quanto dura? Eh, scusi, scusi. Si arriva al padrone della macchina? Eh, presto si cazza pure. Eh, già. Vorrei misurare cincillare. Per fare stupido. Vorrei misurare. Ah. Ah, quant'è? Trenta, trentacinque. Si, la febbre. A posta cerca di sto distante. Trentacinque. A posta cerca di sto distante. Fa senti il cincillare. E se no, parte e parte. Oh, bucone. Oh, bucone. Che c'è una trivella già. Eh, cincillare. C'è la trapano. Che c'è una trivella già. Una volta che li vedo a scherzare alla fermata dell'autobus o la panchina mi fa pensare tantissimo. Eh, è veramente bello vedere questi signori che ancora hanno voglia di scherzare, ridere e di stare bene anche nonostante il periodo ma credo che adesso torneremo tutti un po' più sereni. Me lo auguro. Quindi, però un esempio così è veramente importante è veramente bello. Stronzo! Stronzo! Ebbè, guarda. Ma era aperto. Sì. Era aperto. Ricci. Era aperto o no? Oh. Oh no. Ne era aperto? Ne era aperto il cazzo. No. Oh ma. Dai, svettila. Fammi il pollo al carri. Fammi il pollo al carri. Al carri. Fammi il pollettino. Guarda, 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 guarda. C'è il nonno. Guarda che fa. No, vai papà, guarda. No, 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 no. No, 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 no. No. È vero o no? Eh, cazzo, come fa? Chi? Lui? Lui ne vuole. Ne ha detto. È vero o no? Ma io... Ma io... Quanti fai? Eh. Quanti fai? Fai i cazzo miei. Che fai tu? I cazzo miei. E dopo? E dopo fai i miei. E poi? E poi che fai? Lascia fa bene. E poi che fai? Che fai? I cazzo miei. Come ce l'ho? Questa è quella che mi hai regalato tu. Questa è quella che mi hai regalato tu. Questa è un altro fan, me l'ha mandata. È più lunga, questo. Questa è lunga. Ma ti ha ascoltato i miei. Cazzo. E ne ho accorto il centro. E ne ho calcata piano. Io lo sento. Ma questa che maronna è? Vede che non me... Ah, c'è là il cancetto. Stanno parlando per organizzarsi per le messe. C'è il cancetto. Qualcuno che sta scasando. Sta portando via tutti i mobili. Ma qualcuno che si fa i cazzo. Ma stai scasà. Ma che è scasso? Che è scasso? Che ha portato via la cucina, la sala da pranzo o il divano? Le stupidaglie, le ha da ripiare. Ne hai capito? Limbo? Eh? Che c'ha? Che c'ha? Che c'ha? Va via Federico. Condissing. Pazzesco. Guardate, uno. E due. Non mangiano per protesta. Hanno litigato tra di loro. Ogni tanto capita anche per... Anche nelle migliori coppie. Eh, nonna Marie? Eh? Come mai te litighi? Non c'è la piazza. Non c'è la piazza. Non ha mangiato. Non c'è. Perché? Perché no. Hai litigato? Eh, uff. O no? Oh, smettila di rompire. Non c'è. No, le minacce no. 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 Oh, smettila di rompire.